Ed eccoci alla 24esima edizione della BMT, finalmente ce l'abbiamo fatta dopo tre tentativi, questo è il terzo, abbiamo iniziato a marzo la data tradizionale della BMT, ovviamente poi ci sono stati vari decreti che hanno annullato ogni possibilità di fare una fiera, poi abbiamo provato il 28 maggio scorso ed eccoci qua a giugno 18, 19, 20 giugno per la 24esima edizione dopo due anni di una grande macchina che è restata in un garage umido e desolato e quindi tutti i conduttori di questa grande macchina hanno avuto in questo momento la possibilità di ritornare a vedere, a capire quello che potrà essere il prossimo nostro futuro, non è facile definire un futuro immediato, una ripresa di un futuro immediato, specialmente per il lungoraggio, io sono un operatore turistico del lungoraggio e anche noi stiamo cercando dei prodotti alternativi, prodotti alternativi che ovviamente sono quelli di prossimità, finalmente visiteremo l'Italia, andremo a bagnarsi nei nostri mari anziché nei mari lontani, sicuramente economicamente non è la stessa cosa, però questo segnale, questo grande interesse che ha avuto questa edizione ha messo in moto una voglia di riprendersi, di riprendere il mercato e di ricominciare da capo, è proprio quello che abbiamo detto ieri al Ministro Caravaglia, che devono fermarsi un attimo, capire che a noi non bastano tre o sei mesi di interventi, di cassa integrazione, ci vogliono defiscalizzazione, perlomeno per tre anni, perché ognuno di noi, dal più grande al più piccolo, ha bisogno di questo tempo per poter mettere in moto la macchina, la macchina è una macchina che è stata troppo tempo ferma, c'è molta gente che non è venuta perché è demoralizzata, invece dovevano venire perché la cosa più bella è quella di avere chiarezza e solo un Ministro del Turismo finalmente con un Ministero ce la può dare, è stato un intervento, un aiuto psicologico per tutti quelli che hanno affollato la sala mediterranea, che era zeppa pur mantenendo la distanza di sicurezza prescritta, però in effetti il Ministro ha dato un'espressione molto toccante, dice è un'emozione vedere i workshop nuovamente affollati, vuol dire che il prodotto Italia avrà un incremento non indifferente se oggi noi avevamo oltre 150 buyer tra stranieri, tra terme benessere e anche congressuali, quindi diciamo è stato un successo enorme, è vero che io ricevo sul mio telefonino vari complimenti, mi hanno chiamato da eroe a pazzo, però mi hanno ringraziato perché abbiamo acceso una luce sul mondo del turismo che ci voleva proprio in questo periodo, in apertura delle vacanze, tra l'altro anche questa era una richiesta avanzata dal Ministro e diciamo che per fortuna noi ci siamo riusciti perché il 15 giugno si è liberata la possibilità di rifare le fiere e noi il 18 giugno ne abbiamo approfittato e abbiamo aperto questo grande momento di ritorno al passato. in effetti il discorso visto il successo del momento abbiamo avuto le riconferme per la prossima edizione che si effettuerà a metà marzo del 2022 perché oramai con questo tempo è volato siamo arrivati a marzo del 2022. Tutti hanno riconfermato quelli che sono venuti oggi in fiera e quindi hanno ringraziato ma abbiamo avuto prenotazioni già per marzo prossimo. La cosa importante è che abbiamo avuto l'interesse delle regioni che sono a corse proprio perché hanno capito che in effetti bisogna promuovere il territorio, abbiamo avuto le regioni dalla Lombardia all'Emilia Romagna, abbiamo 11 regioni del nord, in totale sono 11 regioni che sono venuti, la metà sono nuove proprio per promuovere il territorio perché oggi come dicevo prima è il turismo lento che potrà mantenere le nostre aziende, quel turismo che parte dalle crociere al mare Italia, alla visita dei borghi, ai tour durante nelle escursioni delle belle nostre regioni, ai bus operator che possono riproporre un turismo diciamo di prossimità e dovremo strutturarci in questo modo. Poi arriverà forse il ritorno ma ci vuole parecchio tempo, mi ammalgrado perché io sono uno specialista del viaggio lungoraggio però mi adeguerò, io stesso ho iniziato in Umbria a creare dei casali, quello che si vende oggi sono le ville, sono le ville con piscina, noi in Campania siamo pieni sulla costiera amalfitana eccetera, oramai queste ville vengono siccome appartengono a famiglie patriarcali, matriarcali eccetera eccetera, oggi li mettono a disposizione del turista e quella è la migliore vacanza, quindi è arrivato il momento di scoprire il nostro territorio, questa è la cosa importantissima. Diciamo non tutti i mali vengono per nuocere però questo rimarrà, passerà alla storia questa fiera non solo perché, ripeto mi chiamano da eroe a pazzo, non solo per il coraggio che ho avuto a ottenere la presenza di tutte le associazioni di categorie, da Astoi a FTO a Fiamet dove c'erano, addirittura la Astoi ha voluto fare il consiglio di presidenza a Napoli e quindi tutti gli operatori Astoi erano presenti a Napoli, quindi diciamo che viva la BMT e viva chi ha partecipato e ha voluto darmi il coraggio di poter portare a termine questa grande operazione e il fatto che i giornali oggi dicono che il turismo parta da Napoli è anche un segnale molto importante per la regione Campania.